Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang, Citroen C5 Aircross per viaggiare sempre in sicurezza, nuova mini John Cooper Works GP, una vettura unica nel suo genere. Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang, è uno dei 18 nuovi modelli elettrificati che Ford introdurrà in Europa entro il 2021. Mustang Mach-E può raggiungere una media di 119 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica presso una stazione Ionity. Lo dimostrano gli ultimi test condotti dall'ovale blu, effettuati in condizioni di traffico reale, hanno portato a un miglioramento di 26 km di autonomia, quasi il 30% in più rispetto alle precedenti stime più conservative simulate al computer, per la versione con trazione posteriore e batteria Extended Range. Si stima che la versione a trazione integrale raggiunga un'autonomia media di 107 km di carica in circa 10 minuti ed entrambe le trazioni, integrale e posteriore, possono essere ricaricate dal 10% all'80% in 45 minuti. Inoltre, si stima che la versione con batteria Standard Range raggiunga un'autonomia media di 91 km in 10 minuti di ricarica per i modelli a trazione posteriore e 85 km per quelli a trazione integrale, passando dal 10% all'80% di ricarica in 38 minuti. Traffico intenso, stanchezza, pensieri e chissà quale altro elemento possono portare a quella distrazione che potrebbe intaccare la sicurezza della nostra vettura e del suo carico più importante, le persone a bordo. In base alla statistica sulla casistica degli incidenti stradali, anche la disattenzione degli altri automobilisti gioca un ruolo determinante. Dunque, la capacità di reagire in maniera tempestiva si rivela fondamentale nel recuperare situazioni che potrebbero degenerare in una manciata di secondi. Il sistema di avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata avviene analoga efficacia. Il sistema identifica le linee di delimitazione al suolo e corregge la traiettoria del veicolo, avvisando il conducente, quando rileva il rischio di superamento involontario della carreggiata senza indicatore di direzione attivato. Il conducente seleziona una velocità di impostazione e attiva l'avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata a partire da 30 km orari. Il sistema registra la posizione dell'auto in ea carreggiata e il conducente non deve più gestire la velocità o la traiettoria perché sarà il veicolo a farsi carico di queste funzioni. È particolarmente adatto alle strade a scorrimento veloce e le autostrade e permette di delegare parzialmente la guida, restando però sempre concentrati sulla strada. In base alla normativa in vigore, perché resti attivo, occorre tenere le mani sul volante. Una vettura unica nel suo genere con un DNA d'auto da corsa. Infatti la Mini John Cooper Wars GP è la Mini più potente e più veloce di sempre. Sono 306 cavalli erogati, ben 75 in più rispetto a quelli della Mini John Cooper Wars tradizionale su carrozzeria tre porte. La vettura è dotata di alimentazione e raffreddamento dell'olio, specifici per questo modello e questo per conferire il massimo delle prestazioni. Monta un sistema di scarico sportivo con un sound emozionante e potente. Il sistema frenante comprende freni a disco a pinza fissa, quattro pistoncini sulle ruote anteriori e freni a pinza flottante a pistoncino singolo sulle posteriori, tanto aggressivi gli esterni con la parte anteriore che presenta prese d'aria particolarmente grandi. I copri passaruoto svasati sono in plastica rinforzata con fibra di carbonio. La finitura nera delle cornici e dei fari, della griglia, del radiatore e delle luci posteriori fornisce. Fornisce un contrasto elettrizzante. Trattandosi di un'edizione limitata ne verranno prodotte negli stabilimenti mini di Oxford. 3.000 unità e di queste 150 saranno destinate al mercato italiano con consegne entro tre mesi al prezzo di 45.900 euro.